buongiorno a tutti ragazzi eccoci qua in un nuovo video dedica ora vi mando subito alla clip ciao ragazzi ciao ragazzi per caso c'è un giocatore romano di Pierpaolo anzi c'è un perfetto allora ragazzi questo video è per te caro fratellino questo video non può essere lunghissimo ne manco cortissimo questo video dedica a te che tu sei stato un fratello un mio un amico una persona di cui mi posso fidare e mi poter mi potrò sempre fidare tu sei un fenomeno e io ti ringrazio per questo quindi io spero sempre meglio per te e solamente onorato di averti come amico anzi come fratello perché tu sarai e rimarrai sempre il mio fratello un bacio dall'anaconda a te e se vi è piaciuto questo video mi invito a lasciare un bel mi piace a iscrivervi al canale e a stare dalle sempre il mio amico e fratello Pierpaolo Romano e schierabois grazie fratellini e grazie fratellino e grazie ah schierabai